sì vabbè ma più dall'esterno di così non è possibile ragazzi io ho la soluzione per te cos'è questo è il plane mate il tc nates più venduto al mondo per evitare l'over the top e per non essere un desperate golfers iscriviti sul nostro canale youtube e attiva le notifiche seguici su facebook e instagram si vabbè adesso però devo spiegare come funziona allora intanto è una cintura con una guida perfetto e ha due tipi di elastici due lunghezze questo è per il gioco corto per il pitch e quello che è montato sul mio bastone è un elastico per fare il full swing allora quando ti metti in posizione devi sentire un po l'elastico in tensione perfetto allora serve per migliorare lo stacco del bastone perché se è in tensione lo stacco del bastone perfetto se lo sbaglio questo si lascia andare e il bastone va da un'altra parte poi nel back swing devo sentire l'elastico in tensione ok quindi farò un elettrico perfetto nel down swing cosa importante devo rilassare devo sentire questo movimento che lo shaft del bastone va sull'avambraccio destro da qua colpisco e distendo le braccia in avanti questo è una cosa incredibile per migliorare sia la traiettoria del bastone e poi un'altra cosa importante la distensione delle braccia dopo l'impatto ma lo sai lo sai forse l'ho visto usare a rory mckinroy ma certo che lo usa rory mckinroy ha appena vinto settimana scorsa ma infatti l'ho visto infatti l'ho visto molto migliorato nei colpi al green che lui spesso sparacchiava allora lui aveva grossi problemi grossi problemi è una parola però aveva problemi nel wedge 100 metri e perché perché non aveva consistenza con questo tc nades ha migliorato tantissimo perché in avanti adesso usa meno le mani usa più il corpo è incredibile quindi per chi è consigliato questo questo è consigliato per chi tutti quelli che arrivano dall'esterno che non hanno che non riescono a distendere braccia in avanti e poi sicuramente vi darà un grande feeling per il famoso rientro famoso leg che tutti cercano di capire tutti noi maestri per anni abbiamo cercato di spiegare è ovvio che con una spiegazione vocale o facendolo vedere non è sempre facile questo vi dà un feeling che creerete che terrete vostro ma mi sembra che anche dopo cinque minuti che lo usi già funziona si funziona subito ha un ottimo feedback e capirete su di voi cosa vuol dire farlo su incorretto fantastico ragazzi quindi io dai ragazzi venite a provarlo anche voi per non essere più dei desperate golfers ciao